Dimmi dove e quando, dimmi dove e quando Da stasera non arrivo in ritardo E non ho più nessuna scusa stupida Non conta neanche il traffico che c'è Dimmi dove e quando Da stasera non arrivo in ritardo Senza tante parole, manda la posizione Oh oh oh, dimmi dove e quando Dimmi dove e quando E sono seduti, seduti Davvero La notte pura meno non è giusta perché fare le catene di Sussanet Dunque, dettagli con voi E' un po' molto buono E' un po' molto buono La notte pura meno non è giusta perché fare le catene di Sussanet Dunque, dettagli con voi E' un po' molto buono 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 Angela un po' più avanti e poi puoi scendere un secondo per il premio che ti viene consegnato da Mario Testa che stasera è gettonatissimo il rapporto con le pipaggi tutti ringrazio Mario Testa ma che hai fatto per loro? tutto sono rapporti consolidati negli anni ma soprattutto penso che si sono divertiti e hanno apprezzato quello poco che abbiamo preparato per loro per farli correre questo penso che sia questo è un piccolo riconoscimento e beh sì anche una bella soddisfazione e adesso la solidarietà per la premiazione appunto Angela Rezza e Germani che si avvicinano e sicuramente Mario Testa che va a consegnare il giusto riconoscimento e l'applauso anche dei presenti nonostante qualche goccia di pioggia grazie davvero siete impagabili San Martino grazie a tutti